su netlex è possibile costruire le fatture di acconto per farlo andare su fatture creare una nuova fattura nell'esempio sarà usata quella analitica mettere la spunta su acconto e completare i dati della fattura per inserire i dettagli abbiamo anche la possibilità di scorporare gli importi una volta completata la fattura di acconto si può selezionare il paga così verrà inserita all'interno dei movimenti per importare questa fattura di acconto in una fattura normale diciamo basta creare una nuova fattura aggiungere tutti i dettagli e poi dal menu importa importare la fattura di acconto appena fatta anche qui una volta fatto questo si può scegliere il paga e verranno inseriti all'interno dei movimenti quando si riaprirà la fattura di acconto specificata da questa icona su schermo si potranno vedere in basso il movimento della fattura inserito all'interno dei movimenti dello studio e in quale fattura è stata importata grazie 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 grazie